. Big Show, Nicola Savino delle Iene vittima dello scherzo di Pucci . Nicola Savino, il conduttore delle Iene in imbarazzo da Pucci a Big Show. Andrea Pucci sembra aver conquistato il pubblico da casa con il suo Big Show, il suo programma desordio in onda tutti i mercoledì su Italia 1 in prima serata. . Come in ogni appuntamento con la trasmissione, tra qualche ora assisteremo alla parte che tutti i telespettatori aspettano con ansia di vedere sul piccolo schermo, il Send to All. Il Send to All di questa settimana vedrà protagonista Nicola Savino, il conduttore delle Iene. . Ma cosè il Send to All? Durante questo spazio di Big Show, Andrea Pucci si impossessa dal telefono cellulare del malcapitato ospite e mostra a tutto il pubblico presente in studio, ma anche a quelli a casa, gli scatti salvati sulla memoria del cellulare. . Tutti, senza nessuna cessura. Ovviamente, il conduttore del programma non si limita soltanto a mostrare qualche foto, fa molto di più. . . . . . . . . Le Iene, cosa è successo a Nicola Savino durante Big Show con Andrea Pucci. . . Big Show con Andrea Pucci segna il debutto del comico nel ruolo di conduttore, ruolo che non sembra stargli male. Stasera sarà lo sfortunato Nicola Savino a mettersi in gioco allinterno del programma più irriverente di sempre. . Dopo essere tornato a Mediaset, con la conduzione delle Iene, il conduttore dovrà fare i conti con il terribile scherzo che gli aspetta stasera, dove vedrà un terribile un SMS inviato a tutti i suoi amici a nome suo. . 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